Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trabi Meteo. Il maltempo sta andando in vivo proprio in queste ore sull'Italia, a causa di questa maestosa perturbazione atlantica, che come vedete dall'occhio del satellite, sta scendendo dalla Francia verso il Mediterraneo e l'Italia. Vedete appunto la parte più attiva che ormai è raggiunto al nord ed è in procinto di interessare i versanti tirrenici. Perturbazione che in alcune aree scaricherà accumuli anche notevoli di pioggia, quindi allerta meteo su alcune aree che andiamo a vedere subito. Partiamo dalla prima mappa che si riferisce alle precipitazioni attese proprio nelle prossime ore e vedete fenomeni intensi, in particolare tra Toscana e Lazio, ma anche tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, con qualche nubifragio non escluso e punte pluviometriche anche superiori ai 50 mm. Ma nella notte su martedì il fronte evolverà lentamente verso Levante ed interesserà con più decisione anche la campagna oltre che Lazio e vedete ancora fenomeni intensi soprattutto sulla Venezia Giulia dove non escludiamo anche qualche dissestro idrogeologico. Andiamo alla mappa successiva che si riferisce a martedì mattina quando la perturbazione concentrerà la propria energia soprattutto al centro-sud e vedete che i fenomeni più intensi li ritroviamo proprio sul basso versante tirrenico con coinvolgimento anche della Calabria. Ma nel corso della giornata forti temporali potranno sfondare anche il basso versante adriatico. Contestualmente invece vedete un miglioramento che favorirà il nord e le centrali tirreniche ma sarà solo temporaneo sulle Alpi dove entro martedì sera arriverà una nuova perturbazione. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale consultate il sito trabimeteo.com